È davvero necessario scattare le mie fotografie in RAW, ovvero quel formato molto più pesante, molto più difficile da elaborare e da gestire? Non posso semplicemente scattare le mie fotografie in JPEG in modo di averle già pronte da condividere sui social o da stampare o da mandare al cliente o farci qualunque altra cosa mi venga in mente di fare? Nel corso del video andremo a rispondere a questa domanda e vi farò anche vedere qualche immagine carina. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia, vengo da un'esperienza con Canon EOS R6, una macchina che ho noleggiato diverse volte perché non possedendola è una macchina che mi è servita a fare determinate cose laddove la mia strumentazione non arriva e quindi l'ho affittata, mi sembra proprio tre volte. In questa occasione utilizzavo il 100-500 versione RF, quindi un teleobiettivo di dimensioni assolutamente spropositate che è stato perfetto per quello che dovevo fare. Tra poco come promesso vi faccio vedere qualche immagine ma prima vi devo ricordare di iscrivervi al canale cliccando il bottone qui sotto, lasciate anche un like a questo video perché se lo guardate fino alla fine farete molta meno fatica a non dico scattare ma quantomeno post produrre e stoccare le vostre foto. Cominciamo subito e vi faccio vedere qualcosa, come potete vedere si tratta di uno spettacolo teatrale, io ho noleggiato il 100-500 perché conosco bene quel teatro e non avevo la possibilità di muovermi tantissimo, per cui quello che mi serviva era un teleobiettivo con cui stare fermo più o meno sempre nello stesso punto ma poter spaziare, poter zoomare anche di parecchio per andare a catturare i momenti salienti. Quindi quella era la mia esigenza, questo ho noleggiato, devo dire che sono anche contento della mia scelta perché conoscevo già questa strumentazione, l'avevo già utilizzata in passato, devo dire il lavoro è venuto fuori molto bene, chi me l'aveva commissionato si è detto anche molto contento e quindi direi che va assolutamente bene così. Il punto però qual è? Questo intero lavoro è stato scattato in jpeg, io non ho scattato un singolo file row durante questo lavoro. La scelta è derivata da più motivi, il primo motivo è che sapevo benissimo che avrei fatto tante foto perché è uno spettacolo teatrale che dura, adesso non mi ricordo cosa dura, ma incluse le pause credo che sia durato tre ore, quindi avranno fatto due pause da 20 minuti, quindi è uno spettacolo abbastanza lungo e quindi il primo motivo è che non volevo né rischiare di dover cambiare memory card a un certo punto perché sapete si cambia la memory card, va bene c'è anche il doppio slot, però non ne avevo voglia, non avevo voglia di avere la distrazione di dover cambiare la memory card o dover passare al secondo slot durante lo show e quindi mi sono proprio detto non corriamo questo rischio, scattiamo direttamente in jpeg. Vi dico questa cosa che è un po' banalotta, c'erano delle soluzioni però capitano le volte in cui ci si trova in questa situazione, quindi ve la dipingo così, ve la semplifico un po'. Un altro motivo ovviamente era il mio flusso di lavoro, ovvero io mi sono detto normalmente io vado da cliente che ha un'azienda, gli faccio 300 foto ed è finita lì, in questo caso le foto erano molte di più perché c'erano tante persone, gli attori sul palco erano tantissimi e quindi credo di essere me ne venuto via con qualcosa come 1400 foto, una cosa del genere, quindi sono tante, è una mole di lavoro importante da gestire, io avevo voglia di mettermi a post produrre e fare lo sviluppo digitale di 1400 foto, ve lo dico onestamente ragazzi, no non ne avevo voglia, però ho anche fatto un ragionamento, mi sono detto normalmente lo sviluppo digitale io lo faccio quando siamo in condizioni di fortissimo contrasto come può essere una giornata con il cielo sereno e il sole a picco, in questo caso le parti illuminate e le parti in ombra presentano delle differenze tali che se io voglio avere dettaglio in entrambe devo per forza ricorrere allo sviluppo digitale, ma qui siamo a teatro, è un contesto artistico non corporate, secondo me e vi assicuro che la deduzione era corretta, secondo me alle persone ritratte importa molto poco se si perdono i dettagli in certe ombre un po' marcate, in certe zone del fotogramma, non gliene frega niente, anzi un contrasto maggiore quando si parla di arte può anche dare un pochettino di pancia alle nostre foto, può anche renderle un pochettino più, dargli qualcosina in più, per questo motivo, per questo ennesimo motivo mi sono detto secondo me qui è inutile scattare in raw tutti questi file dovendoli poi anche post produrre, oppure alla fine dici vabbè sono 1400 cosa faccio, non li post produco, li esporto così come sono, sì è una via anche quella per carità e post produci solo quelli che sono venuti meglio o quelli che sceglie il cliente e vuoi ritoccare solo qualcosina su quelli ci può anche stare, invece io ho fatto una scelta diversa, ho preferito scattare in jpeg, devo dire la scelta secondo me si rivela vincente perché scattando con R6 la gamma dinamica dichiarata dal produttore è di 13 stop, se ricordo bene, 13 stop a ISO 100 però, qui non stiamo scattando ISO 100 ovviamente perché qui abbiamo un'ottica da f7.1 e con un f7.1 che ho usato per la maggior parte del tempo perché ero zoomato avanti, ovviamente non si poteva scattare ISO 100, anzi ho dovuto rimanere sopra il centosessantesimo di tempi perché altrimenti mi venivano tutte mosse le persone, le pirolette, le evoluzioni, dovevo scattare veloce, quindi gli ISO sono stati un po' pazzerelli durante questo shooting, tra l'altro fatemi sapere in un commento se vi interessa perché, lo faccio comunque anche se mi dite che non vi interessa, ma ho già in mente di fare un video sulla tenuta ad alti ISO della R6 e in particolare delle macchine moderne perché comunque ci si allinea un po' tutti. Devo dire, io normalmente detesto scattare ad alti ISO perché io faccio fotografie ad interni, faccio cose un po' tecniche. Ecco che nel momento in cui faccio una cosa come questa però, spettacolo, teatro, musica anche, ecco che succedono due cose, la prima il rumore digitale mi disturba molto meno perché in un contesto come questo ci sta avere la grana secondo me, rende più viva l'immagine, sennò potrebbe essere fatta con l'intelligenza artificiale, ne ho già parlato in un altro video, andatevelo a rivedere nel caso. Un altro motivo è che ok, scattare con gli ISO alti ci fa perdere gamma dinamica, quindi qui non avevamo 13 stop di gamma dinamica, ne avremmo avuti 11, magari anche 10, non lo so, non ho modo di calcolarlo, però sicuro era meno di 13, però non mi disturba, non mi disturba perché qui non siamo in un contesto ipertecnico, non siamo in un contesto dove io sono abituato a fotografia di interni, se c'hai perdita di dettaglio da qualche parte è un errore, punto, è un errore, è un errore tuo, il cliente non te lo farà mai notare, però tu guardi quel dettaglio e dici ho sbagliato, perché conosci le regole e sai che hai sbagliato. La perdita di dettaglio ovviamente può non essere grave, può non compromettere la buona riuscita dello shooting, però tu sai che c'è. In un contesto come questo la perdita di dettaglio ci sta anche, perché nel momento in cui qualcosa è molto in ombra c'è una regia che ci ha lavorato, c'è un tecnico delle luci che ci ha lavorato e quindi se c'è qualcosa che viene illuminato da un faretto, io in questo momento sono illuminato, è evidente che il regista voleva che voi guardaste quella cosa lì, se c'è qualcosa che in quel momento non viene illuminato probabilmente non bisogna guardarlo e quindi che non ci sia dettaglio su una parte secondaria che tanto non va guardata e che invece ci sia molta luce su una cosa che è proprio il focus della nostra attenzione, va benissimo in un contesto come questo. Quindi in questo caso a me piacerebbe lo stesso avere tutta la gamma dinamica del mondo, però in questo caso io guardo i miei jpeg che vengono fuori direttamente dalla memory card, quindi sono pronti così, non faccio nessuna modifica, li guardo e dico beh ma vanno bene, cioè vanno bene così, non vedo niente che non vada, vanno bene così presi e consegnati, vanno benissimo così e quindi questo secondo me potrebbe rappresentare un punto di svolta non per tutto, non per tutto perché nella fotografia di interni per esempio io devo fare il mio bracketing, devo fare il mio hdr, se no è una cosa tecnica, se no non viene bene la foto. Andatevi a vedere i video che ho già fatto sulla fotografia di interni se volete capire meglio questo passaggio, però la fotografia di interni non si può fare a caso, è una cosa tecnica, va fatta in un certo modo, in questo caso spettacolo, arte, ritratto volendo, ballo perché comunque c'era un gruppo di ballo, musica perché comunque era un musical, in questo caso l'aspetto tecnico per quanto mi riguarda, è la mia opinione, anzi fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate, in questo caso la parte tecnica per me è regolare i tempi in modo da prendere correttamente a fuoco le persone sulla scena, l'aspetto tecnico per me è regolare correttamente la macchina per avere un'esposizione corretta, quella non la posso cannare ovviamente perché se sbaglio l'esposizione in jpeg quello è un problema ragazzi, quello sì che è un problema, però come potete vedere nella maggior parte dei casi l'esposizione era giusta, il file finale su cui ho impostato una riduzione del rumore in macchina, riduzione standard, quindi se anche ci fosse stato rumore è stato un pochino soppresso, con una perdita di dettaglio che sicuramente c'è ma direi assolutamente non significativa, in questo caso su questo tipo di fotografia la cosa è sicuramente riuscita secondo me, merito anche devo dire di una strumentazione che secondo me è top di gamma perché il 100-500 di Canon e Canon R6 sono top di gamma ragazzi, cioè c'è poco da fare, sì è vero c'è la R3, ci sono altre cose, c'è la Sony Alpha 9 III però questa strumentazione è top di gamma, cioè io ho lavorato con la cosa migliore che potevo avere per gestire un flusso di lavoro come questo, non mi viene in mente niente di meglio neanche tra l'altro i competitor, sapete che io mi spertico sempre un po' su Canon ma perché mi piace la trovo valida davvero, secondo me è una combinazione più forte di questa per quello che dovevo fare io quel giorno e più forte intendo combinazione di buona tenuta ad altiso, messa a fuoco devastante, un buon range di zoom e una gamma dinamica che tutto sommato non è neanche malvagia e un peso gestibile perché comunque ci sono macchine più pesanti e un file d'uscita già pronto con una certa maneggevolezza, perché io avrei potuto prendere una R5 per esempio, poi mi sarei ritrovato dei JPEG da 46 megapixel e non volevo una cosa del genere, io non volevo quella roba lì, perché poi mandi quei file enormi al cliente e il cliente ti dice me li ridimensioni tutti i 1400, no, no che non ti ridimensioni, li volevo già pronti così, meno fatica possibile, quindi questa era la cosa migliore che potevo utilizzare e ha funzionato da dio, senza mai un intoppo, qualche foto fuori fuoco c'è stata, ogni tanto devo dire con così tante persone sul palco, ogni tanto, ma questo è inevitabile, la macchina non capiva quale persona doveva mettere a fuoco, quindi magari durante una danza vorticosa magari dava prevalenza al volto di un ballerino che rimaneva sullo sfondo invece di beccarmi i ballerini in primo piano, questo può succedere soprattutto se i ballerini sullo sfondo stanno guardando, hanno il viso ben visibile, mentre un ballerino che si muove magari risulta coperto, quindi la macchina va a riconoscere i visi e va a riconoscere i volti delle persone che magari stanno più ferme e questo può essere un problema, un altro problema che ho avuto, questo ve lo segnalo, il 100-500 è maledettamente pesante e quindi ho fatto un po' fatica perché un conto è, io altre volte l'ho utilizzato run and gun ma con la tracolla per fare video, con il treppiede magari, quindi ho fatto meno fatica e ho alternato molto momenti di shooting vero e proprio a momenti in cui la lente stava lì, non solo, durante le riprese video non faccio zoomate tendenzialmente, non sono Sergio Leone, non sono Quentin Tarantino, quindi la zoomata a schiaffo io non la faccio e quindi ho fatto delle riprese tenendo questo bazooka in mano, però non è che si gira per 3 ore di fila, si gira per 9 secondi, si gira per 30 secondi massimo, fai delle ripresine, clic, fai partire, fai la tua carrellata, spegni, ragazzi la riguardiamo, com'è, com'è, non è, però ti riposi di più, 3 ore col cannone puntato vuol dire un bel peso sul braccio davanti, vuol dire molta fatica sulla schiena, infatti in certi momenti quando potevo, questo è un trucchetto che vi lascio lì, in certi momenti mi appoggiavo con la schiena al muro, c'erano dei sipari, delle quinte, lì in teatro, a lato delle seggiole degli spettatori, ogni tanto io mi appoggiavo con la schiena al muro e stavo lì a scattare e questo aiuta perché così scaricavo il peso non tutto sulla schiena ma lo scaricavo sul muro, il muro non si fa male, io sì. Un'altra piccola cosa che secondo me può aiutare in questi contesti, ve la faccio vedere così, guardate, questo qui è treppiedino di Freewell che dovrei aver recensito sul canale, dovrebbe già essere uscito quando vedete questo video, però non si sa mai, poi ogni tanto io li mescolo, mi serve solamente per le dimensioni perché il 100-500 io l'ho noleggiato e l'ho già restituito e quindi non ce l'ho più. Nel momento in cui voi avete un bazooka come questo in mano, un conto è tenerlo così, tenete avanti rispetto a voi, pesa ancora di più perché la leva diventa maggiormente sbagliata, vantaggiosa. Se noi lo avviciniamo il peso si sente di meno. Questo shooting io l'ho fatto tutto con l'oculare, tutto con l'oculare perché diminuendo la distanza dal mio corpo il peso che vado a percepire è minore, non solo ma dando un terzo punto di appoggio la mia brutta faccia. Io invece di avere solo due punti di appoggio, quindi le mie mani di scaricare tutto sulle mani, mi metto un punto d'appoggio qui, mi pianto la macchina contro la faccia e quindi scarico un pochettino in verticale invece che scaricare tutto in avanti. Questo aiuta, almeno nel mio caso mi ha aiutato molto a sentire di meno la fatica. Questo è un problema per la messa a fuoco perché ragazzi significa che sì, usiamo l'oculare, però significa che facciamo molta fatica a cambiare focus. Nel momento in cui io scatto con una strumentazione come questa, se ho un'ottica leggera, tocco il display. Se la macchina non sta mettendo a fuoco dove voglio io, tocco il display o uso il display come se fosse un joystick e scatto dove voglio io. Con quel peso noi non possiamo staccare la mano sinistra per andare a fare questo giochino perché pesa troppo, non riusciamo a tenerlo con una mano sola, quel mammatrone lì. E facciamo anche molta fatica a farlo col pollice della mano destra perché comunque il pollice sta tenendo il grip della camera, deve tenerla salda, orientare e quindi non è per niente facile mettere a fuoco in un contesto come questo. Questo va detto. Rimane comunque il fatto che con qualsiasi altra cosa sarebbe stato ancora più difficile, quindi rimango dell'idea che siamo comunque sul top di gamma. Forse R6 Mark II avrebbe fatto meglio, probabilmente R3 avrebbe fatto meglio, però sono macchine di altro tipo, con altri costi, con altri tipi di file, era una cosa che secondo me era assolutamente non necessaria e anzi, secondo me R6 potrebbe avermi dato un risultato migliore sotto il punto di vista della gamma dinamica e della sensibilità ad alti ISO avendo un sensore con meno megapixel rispetto per esempio alla sua sorella maggiore, la Mark II. Bene amici, dopo questa mia allegra testimonianza vi chiedo come sempre lasciatemi un commento per farmi sapere che cosa ne pensate, devo dire R6 è una macchina che ogni volta che la uso riscontro qualche difetto ma ogni volta che la uso mi convince sempre di più perché è una bella macchina e anche se non è perfetta, ma quale macchina lo è, credo che potrebbe essere la prossima a cadermi accidentalmente nel carrello della spesa. Signori come sempre è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!